Céline Dion ha fatto un inatteso ritorno sul palcoscenico pubblico durante i Grammy 2024 sorprendendo tutti mentre consegnava il premio per il miglior album a Taylor Swift. Il suo apparire è stato accolto da una calorosa standing ovation suscitando commozione in lei. La cantante aveva precedentemente interrotto la sua carriera a causa della diagnosi della sindrome della persona rigida che ha influenzato negativamente il proseguimento della sua carriera e ha reso necessaria la cancellazione di alcune tappe dei suoi tour. Grazie a tutti vi amo, così Céline Dion ha spezzato il lungo e rumoroso applauso partito al suo ingresso sul palco del Grammy 2024. Siete bellissimi, quando dico che sono felice di essere qui lo dico davvero con il cuore. Chi ha avuto la fortuna di essere qui ai Grammy Awards non deve mai dare per scontato l'enorme amore e la gioia che la musica porta nelle nostre vite e in quella delle persone di tutto il mondo. Ha dichiarato prima di consegnare il premio per il miglior album dell'anno a Taylor Swift stando a quanto riporta Variety.